Amici soft e libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova video anteprima di Marcos Box questa volta dedicata a Ubuntu 22.04, la prossima versione stabile di Ubuntu, la prossima LTS di Ubuntu attualmente in sviluppo, vi sto registrando questa puntata il 26 marzo, ma ancora per poco in sviluppo perché vedrà la luce in forma stabile nel prossimo mese di aprile, quindi mancano pochi giorni perché ho deciso di fare questo video su questa nuova versione di Ubuntu? Beh, perché ci sono alcune modifiche che sono state apportate al desktop environment che renderanno felici molti di voi all'ascolto Come sapete bene, Ubuntu offre una serie di estensioni preinstallate che vanno a rendere Ubuntu facilmente riconoscibile da parte di tutti quanti gli utenti che si affacciano al mondo Linux che subito possono identificare questo layout all'Ubuntu queste modifiche sono state fatte mediando una serie di estensioni di GNOME Shell e vanno un po' a ricreare il layout alla Unity quindi con questo pannello laterale, con gli indicatori in alto a destra con la presenza dell'icone sulla scrivania, quindi sul desktop In questa nuova versione, dicevo, di Ubuntu sono state operate alcune aggiunte che rendono Ubuntu più personalizzabile e più appetibile per tutti quanti quegli utenti che sono alla ricerca delle personalizzazioni Vediamo innanzitutto i temi Andiamo nelle impostazioni Come potete vedere il tema di default è un tema chiaro denominato tema light Ovviamente c'è la possibilità di attivare il tema scuro, il tema dark che va a modificare tutto l'aspetto generale delle finestre di quant'altro quindi il tema GTK Sono stati aggiunti poi la possibilità di andare a cambiare gli accenti Quindi possiamo modificare, eventualmente togliere l'arancia Ubuntu per optare, che ne so, per questa verde acqua No, Prussian Green si chiama Io con i nomi dei colori sono proprio negato Come vi ho avuto modo di vedere non cambia soltanto l'accento del tema GTK ma anche delle cartelle Quindi c'è questo, come si chiama, Prussian Green che va a riprendere il bordino delle cartelle Abbiamo anche questo che è blu Sì, infatti è blu che fa molto interista style quindi lo mettiamo subito sul chiaro perché se no mi fa senso Abbiamo poi il classico rosso Abbiamo il magenta Cioè, sono una serie di colori predefiniti però possono accontentare molti di voi possono andare incontro ai gusti di molti di voi Io continuo a preferire l'arancio Ubuntu perché è caratteristico di Ubuntu e poi sembra che suona di meno rispetto alle altre combinazioni di colori ma io sono una persona particolare con i colori infatti vi fanno schifo i colori di questo nuovo monitor se chi segue il podcast di Marcosbox sa che cosa mi riferisco Quindi seguite il podcast di Marcosbox Continuiamo a parlare Chiusa la parentesi Continuiamo a parlare delle modifiche che sono state parate C'è questa sezione delle icone del desktop quindi è possibile andare a cambiare la dimensione quindi di default è quello normale La posizione delle nuove icone se le voglio mettere in basso a destra e quant'altro La possibilità di ovviamente mostrare o nascondere l'icona della cartella home Adesso andiamo a vedere poi le altre personalizzazioni Qui è la parte diciamo più cicciosa Il pannello Il pannello di Ubuntu tanto discusso tanto amato e odiato da molti di voi è possibile continuarlo a spostare in basso a destra o a sinistra come il default quindi come più c'è grado è possibile ovviamente modificarne la dimensione di default di 48 pixel è stata aggiunta poi questa voce panel mode Che cosa fa? Che cosa succede? Quando andiamo a cliccare su questo selettore il pannello si è trasformato in una dock è che cosa succede se noi adesso la dock la andiamo a spostare in basso otteniamo il classico layout alla macOS passatemi il termine che è anche il layout che troviamo su altre distribuzioni con GNOME come come Dexopenvarium ben predefinito altre distribuzioni che vanno a personalizzare l'aspetto di GNOME mi viene da pensare a una mangiare che c'è una selezione di 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 preimpostazioni per poter avere la dock o magari anche il look alla alla pop OS quindi con la dock in basso ovviamente è possibile ingrandire facendo clic ma manca sempre la possibilità di minimizzare con il doppio clic qui ed è una cosa che mi da letteralmente fastidio avrebbero potuto implementare questa funzionalità ma non ci hanno pensato questi cattivoni di Ubuntu riportiamo il layout quello classico che io continuo a preferire su Ubuntu perché gli da quel tocco di 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 importanza c'è la possibilità di attivare la possibilità di nascondere la dock in automatico e basta vabbè qui l'ultima impostazione che possiamo vedere è quella di configurare la possibilità di vedere o no i i volumi montati quindi personalizzazioni nuove personalizzazioni interessanti che vanno a contentare una grande fetta di pubblico una fetta di pubblico maggiore e che spero possano interessare a molti di voi all'ascolto fatemi sapere che cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto alla prossima ciao ciao ciao